Non voglio... No, forza, 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 forza. Carla, non avrei dovuto denunciarti al dottor Kelso? No, non avresti dovuto. Ah, quei bei silenzi distesi. Ma grazie per avermi chiesto scusa. A posto, no? Vorrei solo chiarire una cosa. No, 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 non c'è niente da chiarire. Eri tu ad avere torto. Controllare le consegne è compito tuo. E devo essere sicura che tu lo faccia. Non dico altro. Ecco, tutto passato.